Forse è il mio ultimo film, perché non mi piace la piega che ha preso il cinema oggi. I film rimangono solo due settimane nelle sale e poi finiscono in tv. Non è così che io ho concepito il mio lavoro. A dirlo Woody Allen, 87 anni, ritornato a Lido di Venezia dopo 16 anni, quando presentò Sogni e Delitti fuori concorso. Nel 1995 non si presentò invece a ritirare il leone d'oro alla carriera. Ancora fuori concorso oggi con la commedia Coupe de Chance, totalmente girata a Parigi, recitata per la prima volta in francese. Tratta del ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle vite di ciascuno di noi. Una coppia che sembra innamorata, entrambi realizzati professionalmente, eppure quando lei, Fanny, si imbatte in Alen, tutto cambia. Un ritorno a Venezia anche per Sofia Coppola, leone d'oro nel 2013 con Sam Ware. A Venezia 80 porta in anteprima mondiale Priscilla, uno dei film a cui è stata data la deroga con un accordo provvisorio con il sindacato degli attori che sono in sciopero a Hollywood da inizio luglio. Infatti è arrivata a Venezia anche Kylie Spenny, l'attrice protagonista. La deroga è stata ottenuta perché la produzione è in Canada e non negli States, quindi si seguono le regole del sindacato locale, ma non sono ovviamente mancate le polemiche e i mugugni. Priscilla racconta la moglie del rock Elvis Presley e nasce il film dal libro Elvis and Me, scritto dalla stessa Priscilla con Sandra Arbour nel 1985. La protagonista della storia è presente a Venezia. la questa domanda è stata di un'funcone. Grazie a tutti